E come sempre a dare il via a questa puntata di Campania Sport con il suo editoriale, c'è Umberto Chiarielli. Buonasera, ben trovati a quest'ora perché ormai il Napoli fa cassetta e viene spostato in posticipo continuamente. La sera del record di Gonzalo Higuain, 27 gol era il suo bottino personale massimo raggiunto in Europa con Real Madrid. In questa stagione realizza il suo 27esimo gol in campionato ed eguaglia il suo record personale, anche se in stagione è già a 29. E rincorre altri tre record, ben tre. Quello di Cavani, massimo cannoniere della storia azzurra per numero di reti, in una sola stagione. Quello assoluto della Serie A perché Higuain può battere il record di tutti i tempi di miglior cannoniere della storia del campionato per reti in un'unica stagione. E può vincere la Scarpa d'Oro perché in questo momento è testa a testa con Cristiano Ronaldo ed anzi, per minuti giocati e golfatti, in questo momento è primo in classifica nella gradatoria della Scarpa d'Oro che è quella che segna il premio del miglior cannoniere europeo dell'anno, quella che ha vinto una sola volta un italiano con Totti. Seguain e da record il Napoli di questa sera non sfodera la migliore prestazione, però fa quello che deve. Cioè andare a vincere sul campo di una squadra disperata, sbaragliata letteralmente dal suo presidente, che naviga proprio ai bordi della zona retrocessione con possibilità gravissime di finire male la stagione, un Palermo che ha sfoderato un novellino nuovo in panchina per questo finale molto difficile. Ma il Napoli era in questo momento la peggiore delle condizioni mentali possibili, perché era tra Incudile e Martello. La Juve dei cannibali, quella che piace tanto a Sarri con la parafersi calcistica che lo occupava Eddie Merckx, il cannibale, vince sempre. E trova avversari anche spesso a Rendevoli Sassuolo, una bella squadra, ha giocato la sua partita, ma era falcidiata ad assenze, squalifiche e malati vari. Si è fatto male Cannavaro, Missiroli, si è ammalato Berardi, De Fred, squalificato, insomma è andata decimata a Torino, si è giocato la sua partita. Buffon è a un passo dal record assoluto della storia del calcio italiano, di imbattibilità, non prende conto a dieci partite, è a tre minuti dal superare Seba Rusti, il portiere del Milan di Sacchi. Tre minuti che lo mettono nella storia come il numero uno di sempre, per imbattibilità. Potrebbe arrivare addirittura al record dei mille minuti se il Torino dovesse segnare solo a 75 esi. Ovviamente, se non segna proprio, prosegue il suo record. Ma proprio il Torino, che oggi ha perso dopo essere andato in vantaggio di due gol a Genova, è l'ostacolo che si frappone tra la Juve e lo scudetto prima delle due gare più difficili dell'anno, quella di San Siro con il Milan e di Firenze con la Fiorentina. Nel frattempo però c'è il Bayern Monaco, che poi è il crocevia forse della stagione bianconera per capirne i destini e gli umori. Il Napoli tra in culo e in martello perché dall'altra parte ci sta un'altra squadra che ora ha preso il filotto buono. Otto vittorie consecutive e non si ferma lì. Ed è la Roma di Spalletti che ora gioca, corre, si è quadrata e ha giocatori che fanno la differenza. Insomma, è un momento di grande difficoltà psicologica per gli azzurri, che però a Palermo, non sfoderando la migliore partita, hanno mantenuto la calma, la tranquillità dei forti e hanno governato la partita in senso assoluto, senza soffrire praticamente quasi mai, contro una squadra certamente più povera tecnicamente, più debole, meno organizzata, ma che comunque con la forza della disperazione e con l'agonismo ha cercato qualche volta di mettere in difficoltà Reina, che una volta è stato bravo, un'altra un po' meno, ma tutto sommato ha corso pochi pericoli. Missione compiuta. Quello potevamo dire questa sera, è quello che diciamo. Il Napoli continua a inseguire la Juve a tre punti, continua a tenere la Roma a cinque, deve ora sfruttare il calendario positivo perché c'è il Genoa in casa, poi va a Udile contro un'Udile disastrata ai massimi livelli, poi ha il Verona già retrocesso in casa. In queste tre partite deve ottenere il massimo e poi si vedrà a San Siro con l'Inter, nel frattempo le altre cose avranno fratto. Insomma, era un turno interlocutorio. C'è un allungo in betta con la Fiorentina che frena, con l'Inter che si riprende, ma ormai è chiaro che è una corsa a tre per la Champions che non sembra lasciare spazio a nessun altro. C'è da capire, la graduatoria tra le prime tre è basta. Si è riaperto tutto in coda invece con la vittoria del Carpi. Carpi-Frosinone si iscrivono ampiamente alla corsa salvezza dove sono invischiate il Palermo, l'Atalanta e l'Udinese. Vediamo. I turni sono ancora tanti. Vediamo. Le speranze sono ancora tante. Vediamo, vediamo, vediamo. Peppe. La lepre, il cacciatore... Noi siamo sempre il cacciatore. Il cacciatore.